Cosa abbiamo? Il soggetto ha liberato la famiglia Ma non vuole uscire di casa Questa casa ha la Fibra Wind? Sì, c'è la Fibra Wind Non lo sospettavo Con Wind Fibra 1000 non vorrai più uscire di casa Hai il mega wifi e in più hai 100 giga al mese Per gli smartphone della tua famiglia quando sei fuori Bravi, avete tolto la fibra Ma tanto hai giga, non finisce qui Ci rivedremo presto Che paura Grazie